Una distesa di fiori odorosi e note delicate di musica diffuse da un vecchio giradischi, l'evento per Silvia Bisconti l'ha creato il suo team, denso di emozione e commozione, il più importante perché è l'ultimo, esclusivamente riservato a lei. A Belluno, all'atelier sul fiume Piave, il luogo in cui in ogni angolo si respira l'amore per il bello, il giusto tributo alla stilista fondatrice di Raptus & Rose e del format La Moda Liberata. Ha permesso, secondo me, a tante donne, a me in primis, di fare pace con il nostro corpo e imparare ad amarlo e apprezzarlo con le proprie specificità e sentirsi belle. Perché Silvia Bisconti così ha inteso la moda fuori dai canoni santificati e preordinati, nelle eccentricità e nella gentilezza, come gli abiti che accarezzano i corpi mortificati dalle malattie oncologiche che Silvia ha creato e fatto sfilare indosso a centinaia di donne nelle piazze così come nei luoghi magici dell'arte e della cultura, in Italia e all'estero, in collaborazione con l'associazione San Bassiano di Bassano del Grappa. L'ho sempre ammirata per questo suo fare, per gli altri, forse perché si avvicina molto alla mia vita, spendersi per gli altri. L'ho sempre ammirata tantissimo. L'amore per l'arte, declinata in tutte le sue sfaccettature, ha portato Silvia Bisconti a calcare con le sue creazioni palcoscenici dei più importanti teatri italiani come costumista. Abbiamo condiviso dei bei percorsi creativi in tanti spettacoli, andati anche al piccolo di Milano, ma tutto è partito qui da Belluno. Ci siamo riconosciuti nella voglia di vivere, di esprimerci e di dare a Belluno delle possibilità a tutti i livelli creativi. Nel suo libro Diario di una viaggiatrice eccentrica sono contenuti gli itinerari degli amati viaggi alla ricerca dell'essenziale, eredità preziosa come il pensiero geniale che Silvia Bisconti ha lasciato alla famiglia, al Raptus Team e all'amata comunità.